In tutto il mondo quest'oggi si sta tenendo la non-edizione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Una giornata di sensibilizzazione promossa dall'ONU e che vedrà molte iniziative volte a promuovere la conoscenza di questa disabilità. In molte città del mondo e in quelle italiane sono stati illuminati di blu i più importanti monumenti. La Fondazione Italiana per l'Autismo, con la partecipazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il MIUR, coordinerà una serie di iniziative dal 28 marzo al prossimo 6 aprile per informare, formare e sensibilizzare il mondo della scuola su questa sindrome. Anche quest'anno il MIUR si fa promotore di una serie di iniziative dall'Istituzione di Sportelli per l'Autismo a un concorso per le scuole. Il concorso Sfida Autismo è rivolto a singoli studenti, gruppi o classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di sensibilizzare sulla tematica dell'autismo e di potenziare il livello di conoscenza, favorendo la qualità dell'inclusione scolastica. Partendo dalla sperimentazione avviata lo scorso anno in 13 centri, lo sportello autismo è stato esteso a tutti i 106 centri di supporto territoriali, già attivi in Italia a livello provinciale, tanto a Salerno quanto a Napoli, Benevento ed anche Cava dei Tirreni presso la Fondazione Sinapsi. Il governo ha inoltre varato un piano di formazione con l'attivazione di 14 master universitari in didattica e psicopedagogia sui disturbi dello spettro autistico finanziati appunto dal ministero e a cui potranno accedere complessivamente circa 1.500 docenti.